La Russia va al bene un colpo di testa, quello di Kane per l'Inghilterra al novantunesimo stende la Tunisia e scatena la gioia dei tifosi al Mondiale. Chi è entrato dopo ha fatto la differenza e poi è arrivato il gol, abbiamo vinto e vinceremo la Coppa del Mondo. Brillanti, siamo stati brillanti, abbiamo meritato, eccellente avanti Inghilterra. Doppietta di Kane e i Leoni battono dunque la Tunisia, i tifosi rossi si congratulano, niente ricorda gli scontri di due anni fa a Marsiglia tra le due tifoserie. Abbiamo perso all'ultimo minuto. Lo sconforto dei supporters tunisini. Triste ma questo è il calcio, così speriamo di fare punti la prossima volta in modo di andare avanti in questa competizione. Canti e gioia nei pub di Volgograd, i Leoni di Southgate ce l'hanno fatta. Grazie! 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 Grazie!